salve da globalati buona domenica oggi risotto con funghi porcini della sila secchi diciamo che rispetto a quello a quello che si prepara con quelli freschi ha anche i suoi limiti però vi posso assicurare che con una buona ricetta si può fare la stessa cosa io provo è al dente e si sente abbastanza il profumo di funghi non dico che sia proprio la stessa cosa di quando sono freschi però vi posso assicurare che i sapori ci sono mi ha dato l'attenzione che ho parlato da Michele Expert